Nel 2024 di Pesaro, capitale della cultura, si inserisce anche il ventesimo anniversario della rassegna Teatro Oltre di Amat. 35 appuntamenti che dal 17 gennaio a giugno troveranno palcoscenico diffuso nei teatri di Pesaro, Fano, Urbino, Urbagna, Iesi, Mondavio, San Costanzo, San Lorenzo in Campo e Senigallia. Ad aprire il sipario il 26 gennaio sarà Mariangela Gualtieri che fa ritorno al Teatro Rossini di Pesaro per celebrare l'umana specie in tutta la sua splendida imperfezione con il sermone al mio celeste Pollaio. Si prosegue il primo febbraio ad Urbagna con l'ultima eredità monologo di Oscar de Summa che racconta la storia di un doppio viaggio geografico ed emotivo. E ancora 22 febbraio Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo con la revisione dell'opera di Omero dal titolo Odissea, tracce di resilienza urbana a cura di Teatro del Simposio. Ma questi sono soltanto i primi appuntamenti di 35 spettacoli di Teatroltre che si intersecherà anche con un festival dedicato al centenario della nascita di Giuseppe Testori fra le più poliedriche figure intellettuali del Novecento italiano.